Ciao a tutti. Oggi ho una novità da parte di Iliad. Vi ricordate che a Bologna, Milano, Torino prima c'era il limite sulla FTTH GPON di Iliad fino a 1 gigabit per secondo. Adesso in queste tre città che prima era disponibile solo a 1 giga c'è stato l'upgrade a 2,5 giga e 500 in upload. Io ovviamente sono in una città in cui c'è il 5 gigabit. Comunque adesso vi faccio vedere uno speedtest a 2,5 gigabit che è la porta disponibile del modem. Quindi anche se siete Milano, Torino e Bologna, con l'upgrade la velocità è questa. L'unica porta disponibile appunto nel modem è 2,5. Ovviamente la porta è per tutti 2,5 gigabit che ha il modem di Iliad, quindi raggiungerete questa velocità. Anche sulla rete GPON ci siamo su 700, mentre chi è Torino e Bologna e Milano avrà 500, però siamo lì. Buon upgrade!